Oh, buonasera! Ecco qua, stavamo in pensiero, stavamo. Di nuovo qua? Sì. Come mai? Oggi ho guardato molto il sole dalla mia finestra. Quando ad un tratto ho guardato l'ora e mi sono detto... Mo vado. Ma guarda... Ma lei per un giorno vuol dire rimanere a casa? Perché può prendere lei un po' di sole? Io la vedo pallido. Guardi, se li guardo, pensa a lei. No, verrò sempre. Venga sempre, venga sempre, venga sempre. È un piacere. Igel Cruz. Scusi, scusi, hai ragione. Esangero a volte, scusi. Bene, dalla mia ottava raccolta di poesie dal titolo Poesie Religiose. Addirittura? Sì. Caspita. Dal titolo Pietro, prima che il gallo canti, fai partirla a base. Reciterò i versi della mia poesia più suggestiva. Addirittura? Dal titolo... Per distrarti un po'. Vado. Sola, in quel letto d'ospedale, mi sussurrasti, è grave. Ti risposi, no, amore, durerà poco questa tua croce. Poi, per distrarti, feci scegliere a te, su quel bel De Plein, la tua cassa di noce. Mamma mia, guardi, mamma mia, lei veramente esangere quando dice queste cose, mamma mia. Vorrei concludere per oggi... Perché torno pure domani, no? Sì, fino alla fine. Vorrei concludere per oggi con una lirica dal titolo... Tu avevi ragione. Per piacere. Scusi? Per piacere. Non avevo parlato comunque, stavo zitta. Tu avevi ragione. In quell'incidente che ti fu fatale, tu avevi ragione. Oh, mamma mia, mamma mia. Aspida. E che cos'è? Buonasera. Buonasera, presto e rivedete la pubblicità. Oh, l'uomo n'era, l'uomo n'era colpita ancora.